La segnalazione giunge dall'associazione Salviamo il castello di Calatubo, in particolare dal suo presidente Stefano Catalano, il quale racconta Stamani, passando nei pressi della fontana araba del centro storico di Alcamo, mi sono accorto che a terra, nel basolato adiacente al bevaio, vi erano diversi pesci in agonia, in pochi centimetri di acqua in prossimità del tombino delle fogne. Mi sono adoperato a catturare i pesci che boccheggiavano nelle pozzanghere in vase d'erbacce e rifiuti. Non con facilità sono riuscito a rimetterli dentro il bevaio. Mi sono fatto letteralmente un bagno, ma ne è valsa la pena. Tutto questo è accaduto, prosegue, perché gran parte del bevaio è letteralmente invaso fino all'orlo da vegetazione acquatica che imprigiona i numerosi pesci che, pur di uscire dalle fitte trame delle alghe, si vanno a buttare dal canale di scolo dello stesso bevaio. In attesa che venga ripulito il bevaio, conclude fornendo anche queste immagini, ho messo una pietra nella condotta di scolo per evitare altri spiacevoli inconvenienti, ma occorre più presto un'opera di pulitura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.